E' stata pubblicata una nuova pagina Facebook dall'amico Giorgio Giunta, l'indirizzo è quello che appare lì sul video, diciamo che facebook.com slash vittime strada. Io in realtà avevo già espresso il mio mi piace parecchio tempo fa, parecchi giorni fa perché in realtà ero incappato in questa nuova pagina Facebook già diversi giorni fa. Invito tutti ad esprimere il mi piace perché il fatto di avere un'altra palestra di idee insieme alla mia che venga frequentata e con la quale ci sia un confronto lo ritengo assolutamente stimolante perché penso che il confronto tra palestre di idee è appunto il sale della democrazia. Quindi auguro veramente di cuore un buon lavoro al collega, collega chiaramente gestore di pagina Facebook Giorgio Giunta che è gestore appunto della pagina Facebook che considero concorrente nel senso buono del termine, nel senso che ci emuleremo a vicenda a cercare notizie. Io condividerò senz'altro diciamo i suoi post, lui condividerà i miei, insomma anche perché chiaramente l'importanza di una pagina Facebook dipende anche da quante persone condividono i tuoi post. Quindi diciamo che non soltanto mettendo mi piace ma anche andando a condividere i post di Giorgio Giunta contribuiscono diciamo al successo, al posizionamento su Google, insomma a cose che sono abbastanza intuitive. Quindi assolutamente non è una pagina Facebook nemica. Chiaramente i miei post sono a disposizione di tutti, a maggior ragione sono a disposizione di questa pagina Facebook dall'amico Giorgio Giunta, che sulla sua pagina farà leggere le cose che per me sono interessanti, quindi insomma se le trovo interessanti mi fa piacere che tutti gli altri, anche sulle altre pagine, le leggono. E poi vabbè, insomma, si mette condivide e contribuisce anche al successo e alla diffusione della pagina Facebook che insomma mi onoro di gestire, di portare avanti, non da solo, insomma anche con altri amici. Poi che volevo dire, che quindi potete accedere, come c'è la preoccupazione che è stata espressa ieri su un sito che insomma lui non riusciva bene a interpretare perché gli era apparso un messaggio dell'antivirus, non so bene perché magari c'è un antivirus vecchio per cui magari non riconosce del software, non lo so perché insomma non so assolutamente, ho letto soltanto quello che lui ha pubblicato, però dico appunto che per quel poco che ne so io potete accedere tranquillamente sia alla pagina Facebook di Giorgio Giunta che naturalmente al sito vittimestrata.org. Per quanto ne so io non rischiate di contrarre alcun virus informatico, come naturalmente non c'è nessun virus in vittimestrata.eu. Quindi io dico ecco, buona lettura di tutte le pagine Facebook e di tutti i siti e vorrei finire con una citazione appunto magari praticamente non sta simpatico a tutti, a me ai vecchi tempi mi stava simpatico, adesso certo li vedendo a posteriore, insomma Mao Zedong nel libretto rosso scriveva che cento fiori fioriscano, che cento scuole di pensiero gareggino. Quindi a prescindere dalla simpatia per Mao Zedong sicuramente questa frase è condivisibile da tutte quante le persone intelligenti, amanti della dialettica e non chiuse alle opinioni e ai punti di vista altrui. Grazie per l'attenzione.